L'Apostolo Paolo ha scritto una epistola ai Galati, è stato costretto a scrivere una epistola ai Galati perché là stava succedendo qualche cosa di particolare. Cioè è importante capire il contesto delle argomentazioni a volte particolari, specifiche, è importante capire il contesto nel mezzo dove sono state scritte, per quale motivo quel pezzettino lì è stato scritto in mezzo a quella lettera. Quindi io vi voglio evidenziare la situazione che c'era tra i Galati che ha spinto l'Apostolo Paolo a scrivere per poter poi esaminare la questione specifica di Agar per capirla meglio. Per capire bene la figura, l'allegoria di Agar e di Sar. L'Apostolo Paolo ha dovuto scrivere ai Galati perché cosa stava succedendo? Cioè mentre Paolo era andato in giro per i paesi ad evangelizzare, evangelizzò anche i Galati, evangelizzò i Galati e si convertirono e si creò una comunità. Cioè l'Apostolo Paolo ha annunziato l'Evangelo e i Galati si sono convertiti. Cosa hanno creduto i Galati? In che cosa hanno creduto? Hanno creduto nell'Evangelo che l'Apostolo Paolo ha annunziato. Cos'è successo poi? Paolo si è allontanato, è dovuto andare via e in quella comunità sono entrati dei falsi dottori, sono entrati delle persone che hanno cominciato ad insegnare delle cose che non dovevano insegnare. Hanno cominciato ad insegnare che, è vero, si erano convertiti per la predicazione dell'Evangelo ma avrebbero dovuto comunque osservare certi precetti della legge. Quindi avevano creduto nell'Evangelo ma dovevano osservare la legge. Alla fine era uscita questa situazione, era giunta questa situazione e loro l'avevano, vuoi per ignoranza, vuoi perché ci sono stati dei falsi dottori che sono stati, diciamo, forti nell'ingannare, vuoi tante altre cose che sono successe, ecco che i Galati si trovavano in questa situazione. E ai Galati Paolo scrive, per capire questa situazione, Paolo scrive queste cose. Capitolo 1 di Galati al versetto 6 e 7 Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Quindi vedete Paolo li sta sgridando praticamente, gli sta dicendo ma come? Io vi ho annunziato l'Evangelo, voi avete creduto e già state passando a un altro Evangelo che poi dice non è un altro Evangelo, capite? Cosa era successo? Era successo appunto che c'erano di quelli che avevano turbato gli animi, che gli avevano detto va bene avete creduto ma ora dovete osservare i precetti della legge. Cosa che voi sapete che la salvezza, questo è importante capire questo, però per capirlo bene si deve partire da un altro, è meglio che torno ancora un po' indietro per farvi capire. Allora la legge fu data, va bene è stata data la legge, la legge cosa diceva? Chi avrà messo in pratica tutti i precetti della legge sarà salvato, però non dovrà sbagliarne neanche uno. Questo era il concetto generale della giustizia secondo la legge. Ma la legge cosa ci faceva, cosa ha fatto conoscere la legge? Che nessuno era in grado di mettere in pratica tutta la legge e tutti i precetti senza sbagliarne uno. Quindi non si poteva arrivare ad essere salvati osservando la legge. Quindi cosa è stata la legge? La legge era quell'insieme di precetti, di ordini che Dio dava che ci conducono, conducevano, conducono le persone a fargli capire che da soli non possono essere salvati. Quindi vedete, la legge fa da guida verso Gesù Cristo. Quindi tu con la legge non riesci ad essere salvato e devi per forza di cose rivolgerti a qualcun altro. Chi è che salva quindi? Chi salva è solamente Gesù Cristo mediante la fede. Quindi siamo salvati non per opere, come chiedeva espressamente la legge, ma siamo salvati mediante la fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto. Vedete? Qui la legge non salva, ma la legge ci ha guidati a Gesù Cristo. Quindi noi non possiamo dire che la legge non va bene, perché la legge ha la sua funzione. La legge è buona e giusta. Se ne facciamo un uso legittimo della legge, allora va bene, andiamo bene con la legge. Se si fa un uso legittimo però della legge, perché se noi della legge facciamo un uso del tipo imponiamo i sabati, le feste, non mangiare carne, non mangiare certi cibi e altre cose, capite che allora non va più bene. Perché non è questo. Devi vivere continuamente pensando a osservare ogni singolo precetto. Quindi non si è liberi. A differenza invece della salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Perché si è liberi? Perché dove c'è lo spirito, là noi siamo liberi. Attenzione, liberi da che cosa? Liberi dalla schiavitù della legge. Cioè non è che oggi siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Perché è vero che l'Evangelo ci ha resi liberi. E siamo sotto la grazia. Però questa libertà non deve essere usata per fare poi quello che si vuole. Perché comunque quando si fa qualcosa di sbagliato si pecca davanti a Dio. E quindi bisogna fare attenzione. Cioè non bisogna utilizzare la libertà che abbiamo in Cristo per peccare praticamente. Cioè abbiamo la libertà dalla schiavitù della legge. Il Signore ci ha liberati. Ma non è che siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Comunque adesso noi ci... La libertà e la schiavitù, questi due elementi importanti che vediamo più tardi, ci interessa esaminarli perché... Perché sono, diciamo... Uno, la schiavitù deriva dalla legge, mentre la libertà deriva dalla salvezza per l'Evangelo. Quindi teniamo questi concetti per poter poi capire il resto. Ad esempio, un caso specifico che dimostra che tra i Galati era successo qualche cosa, ad esempio, è quando in quei passaggi al capitolo 2 di Galati, dove Paolo parla che ha dovuto riprendere Pietro davanti a tutti. Perché? Perché Pietro aveva ripreso a giudaizzare, quindi a tenere conto, a comportarsi tenendo conto della legge. E Paolo ha dovuto resistergli in faccia e riprenderlo davanti a tutti. Quindi, capite, c'è il pericolo, c'è sempre, tra quelli che vogliono introdurre dei comandamenti, dei precetti che sono derivanti dalla legge oppure che se li sono inventati di sana pianta. Sono precetti che vogliono, diciamo, che vogliono renderti di nuovo schiavo. Ah, devi osservare il sabato, non devi mangiare carne di maiale. E questi ce li abbiamo in mezzo agli evangelici. Ci sono, capite, ci sono, quindi bisogna saperle queste cose, perché bisogna stare lontani da quelli che ci vogliono di nuovo far cadere sotto la schiavitù della legge. Quindi, come succede ai Galati, purtroppo succede in molte comunità. Ci sono di quelli che turbano gli animi, che disturbano, capite, e disturbano la Chiesa che sta crescendo, la vogliono deviare dalla libertà che ha per renderla schiava dei precetti della legge. Poi, se a questo ci aggiungiamo il fatto che i massoni hanno il loro interesse a spingere verso la schiavitù di qualche precetto della legge per farsi amici gli ebrei, beh, il quadro poi, capite, anche oggi diventa più chiaro e più completo. Quindi, tenete conto che la legge non deve essere reputata come una cosa sbagliata, attenzione, però non è da osservare in determinati precetti, perché ce ne sono dei precetti che provengono dalla legge. Viene citata la legge per osservare determinati precetti che sono stati, diciamo, tenuti vivi anche sotto la grazia, perché non è che noi sotto la grazia e il comportamento possiamo tenere tutti i comportamenti che vogliamo. No, ci sono delle cose che sono un peccato. Ad esempio, andiamo a prendere i passaggi contro l'omosessualità, ci sono anche i passaggi di non mangiare i cibi sacrificati agli idoli, e sì, si va a prendere dalla legge, capite? Poi ci sono i passaggi presi sempre dalla legge che riguardano il non mangiare il sangue. Sì, possiamo utilizzare anche i passaggi che sono scritti nella legge, perché questi sono validi, perché gli apostoli li hanno trasportati anche sotto la grazia, capite? Quindi questi sono i comandamenti che sono rimasti ancora oggi. Quindi la legge, vedete, non è che la buttiamo tutta, anzi non buttiamo niente, è che ogni cosa va presa nella maniera giusta, la devi citare col giusto significato, capite? Comunque, essenzialmente, tutti questi precetti della legge, che poi sarebbe la salvezza secondo le opere, la legge di Mosè rappresenta quella giustizia che ti porta ad essere salvato da te stesso, facendo le opere che piacciono a Dio. Ma la legge stessa non ti permette di arrivare a questa conclusione, perché ti rendi conto che tu non riesci a fare tutto quello che il Signore vuole da te. Quindi per opere non puoi essere salvato. E come si viene salvati? Attraverso la fede, mediante la fede nel sacrificio compiuto da Gesù Cristo. Così che siamo stati salvati. Però salvati sì, per fede, non per opere, ma comunque siamo diventati, diciamo, siamo stati riscattati e siamo stati acquistati dal Signore nostro Gesù Cristo. Quindi il nostro Signore, Salvatore Gesù, ci ha comprati. Ci ha comprati a caro prezzo e dobbiamo obbedire ai Suoi comandamenti, e ci dobbiamo fare in modo di non dispiacergli mai, capite? Non dobbiamo dispiacere al Signore, non dobbiamo fare cose che a Lui dispiaciono. E quando vengono commessi questi peccati, vanno subito confessati al Signore, vanno confessati, abbandonati, e si chiede perdono al Signore. Ecco, perché purtroppo il peccato abita nella nostra carne, ci fa cadere, ci fa cadere, ci fa inciampare, quindi ogni giorno abbiamo il nostro carico da portare alla croce, ai piedi della croce di Gesù Cristo in preghiera. Quindi è difficile che passino dei giorni senza avere qualche carico da portare alla croce. E' questo. Quindi cerchiamo di non peccare, ma se pecchiamo poi dobbiamo confessare i nostri peccati e chiedere perdono al Signore. Andiamo avanti, andiamo avanti col concetto parlando ancora di Galati. Leggiamo questi altri passaggi al capitolo 3 di Galati che ci fanno capire la situazione che vi ho già un po' esposta, ma che, prendendola dalla scrittura, quindi, diciamo, è confermata dalla parola. Dice, perché Paolo non era contento dei Galati, li riprendeva, li sgridava, capite? E gli dice, capitolo 3, versetto 2 di Galati, Dice, questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure e proprio in vano? Quindi, vedete, c'era questa contrapposizione, cioè loro pensavano di piacere a Dio con le opere, e invece l'Apostolo Paolo li vuole riportare a un certo ordine secondo la grazia, capite? Quindi questo è tutto l'orientamento che ci serve poi per capire quando affronteremo la lettura dell'allegoria tra Agar e Sara. Quindi, praticamente, il concetto da tenere bene in mente è questo, che secondo la legge si è schiavi, cioè la legge produce schiavitù, perché si è schiavi, cioè non si è liberi tutti quei preceti e comandamenti che ci sono nella legge difficili da praticare tutti, ti rende poi schiavo. Ad esempio, l'imposizione della decima è una di queste che è tra le più amate da certi pastori, l'imposizione della decima per chi si sottomette a questa legge, a questa imposizione, praticamente dopo diventa schiavo. Schiavo cosa vuol dire? Vuol dire, in base, in riferimento alla decima, vuol dire che tu, tutto quello che ti entra in casa tua, tu una decima, la devi conteggiare che la devi dare via. Questa è la legge della decima e non puoi sgarrare, non puoi sbagliare di un centesimo. Ti danno dieci pomodori, uno lo devi dare di là. Eh sì, perché se uno dice vuoi osservare la decima, la decima della legge è scritta così, bisogna osservarla così, cioè non è che ci facciamo la decima a modo nostro, no? Capite? Cioè, perché o la osservi o non la osservi. Noi non la osserviamo, non lo osserviamo il precetto della decima, ma chi lo osserva è schiavo di quel precetto, perché non ti senti mai libero di aver dato tutto esattamente al Signore. E se ti regalano cento euro, ti regalano, a tuo figlio viene la nonna e gli regala cinquanta euro, viene lo zio e gli regala venti euro, devi sempre acchiappare tutto, prendere e strappolare la decima, non è che così è libera la cosa. E questo è il precetto della decima. Ma se uno deve vivere così, voi capite che è schiavo. E poi aggiungi il sabato, aggiungi che non puoi mangiare carne di maiale, aggiungi che devi osservare le feste, e allora, capite, dopo non te ne esci più. Ecco perché sotto la legge di Mosè si parla di schiavitù. quindi i figlioli della legge sono schiavi, questo è il concetto, mentre i figlioli, i figlioli della predicazione della fede sono figlioli liberi, capite? Ecco, libertà e schiavitù, c'è questa contrapposizione. Adesso andiamo a leggere più avanti, sempre per capire ancora questa contrapposizione tra schiavitù nella legge e la libertà in Cristo nella predicazione dell'Evangelo. Capitolo 4 di Galati, poi apro una parentesi, vi consiglio di leggerla attentamente, l'Epistola ai Galati, perché contiene veramente tanti concetti molto importanti, che per uno che è stato salvato per fede diciamo sono molto importanti e bisogna anche ricordarli. Insieme all'Epistola dei Romani insomma trattano nell'insieme molte cose che sono importanti che riguardano la salvezza per fede, in contrapposizione alla salvezza invece secondo la legge, capite? Quindi è importante capire, studiare bene anche l'Epistola ai Galati, perché purtroppo ci saranno sempre quelli che vorranno venire a voi e imporvi qualche legge, capite? E qui dobbiamo rispondergli, dobbiamo conoscere, conoscere i Galati perché hanno sbagliato loro e noi dobbiamo imparare dai loro errori e dalle correzioni che l'Apostolo Paolo ha portato. Capitolo 4 di Galati al versetto 6 e 7 leggiamo «E perché siete figlioli? Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida Abba Padre! Talche tu non sei più servo, ma figliolo, e se sei figliolo sei anche erede per grazia di Dio». Una caratteristica tra la differenza tra gli schiavi e i liberi è che i liberi sono figlioli di Dio, capite? È importante questa distinzione, perché? Perché i veri figlioli di Dio sono quelli poi che erediteranno la vita eterna, e questo è importante, erediteranno il regno, il regno celeste, il regno promesso da Dio. Quindi noi siamo figlioli, figlioli per mezzo della fede, capite? Non più schiavi, che lo schiavo è qualcosa che magari ha un legame con Dio, ma non come il figliolo, capite? Il figliolo è anche erede della vita eterna, e la legge rende schiavi, mentre la salvezza per mezzo della fede rende liberi e anche figlioli. Quando siamo diventati figlioli di Dio, noi siamo diventati figlioli dell'iddio altissimo nel momento in cui siamo nati di nuovo. con la nuova nascita noi siamo stati immersi nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, e da quel momento noi siamo entrati a far parte della Chiesa, noi siamo diventati figlioli dell'iddio altissimo. Al momento della nuova nascita, chi l'ha compiuta? La nostra rigenerazione spirituale. La nostra rigenerazione spirituale l'hanno compiuta insieme la parola di Dio con lo Spirito Santo. Capite? La parola insieme allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo entrando in noi ci ha fatto credere nel messaggio dell'Evangelo in Gesù Cristo che è morto per i nostri peccati. Quindi vedete, insieme parola e lo Spirito Santo. Ed è per questo che Gesù dice a Nicodemo se uno non è nato d'acqua e di Spirito non può entrare nel regno dei Cieli. Quell'acqua lì non è l'acqua battesimale a cui si riferisce Gesù. Non è acqua battesimale, ma rappresenta la parola di Dio. Perché in alcuni passaggi delle scritture la parola di Dio viene rappresentata come l'acqua. Capite? Un'acqua che lava, che purifica. E la parola di Dio ci purifica, infatti. Capite? Quindi siamo stati rigenerati per mezzo dello Spirito Santo. Non per opere giuste che noi abbiamo compiuto. No. Noi non siamo stati salvati perché eravamo buoni o perché abbiamo compiuto delle opere che piacevano al Signore. No. Noi siamo stati salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù, per volontà di Dio, praticamente. Egli ha voluto salvarci. E ci ha salvati. Da quel momento siamo diventati figlioli di Dio, eredi della vita eterna. Quindi sto battendo su queste distinzioni che così dopo ci serviranno per capire meglio Agar e Esar. Che adesso andiamo a leggere. Quindi figlioli. Adesso andiamo a leggere al capitolo 4 di Galati dal versetto 21. Dittemi, voi che volete essere sotto la legge? Non ascoltate voi la legge? Sì, qui Paolo sta facendo un discorso. Dice, voi che state cercando in tutti i modi di essere salvati e di piacere a Dio secondo la legge. ascoltatela questa legge, ascoltate quello che è scritto, no? Date retta a quello che c'è scritto. E riflettete, li sta sgridando, esortando a riflettere sulla loro stessa legge che si volevano dare. E per spiegare determinati concetti usa un'allegoria che adesso la leggiamo. 4.22 di Galati Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figlioli uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Voi sapete che Abramo, diciamo, ebbe un figlio da Agar che il figlio si chiamava Ismaele poi ebbe un figlio anche da, come promesso da Dio, ebbe un figlio da Sara, Isacco. E qui Paolo si sta riferendo a queste parti delle scritture. Quindi Abramo ebbe due figlioli uno dalla schiava, che era Ismaele da Agar e uno dalla donna libera la donna libera, capite? che secondo la promessa, il figliolo secondo la promessa che era Isacco. Ma quello dalla schiava nacque secondo la carne la nascita di Ismaele avenne solo per una congiunzione carnale capite? Era una discendenza, è vero che discendeva da Abramo ma era una discendenza puramente carnale solamente mentre, dell'altra dice mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa e sì, perché quando nacque Isacco da Sara nacque in virtù della promessa perché Dio gli promise ad Abramo che gli avrebbe dato un figliolo. Il figliolo della promessa era Isacco non Ismaele anche se c'è stato un altro figliolo secondo la carne che è Ismaele ma non era lui che doveva essere l'erede praticamente non doveva essere Ismaele secondo la carne ma doveva essere il figliolo della promessa spiritualmente, capite? Quindi l'aspetto spirituale e la promessa di Dio valeva di più più forte era più importante della discendenza carnale vi faccio un esempio i discendenti carnale di Abramo sono anche i giudei sono discendenti carnali di Abramo ma non sono salvati per questa discendenza carnale, capite? saranno salvati solamente se nascono di nuovo quindi diventano figlioli secondo la promessa capite? mentre quello nacque in virtù della promessa le quali cose hanno un senso allegorico qui Paolo dice queste due donne hanno un senso allegorico che cosa rappresentano? dice poiché queste donne sono due patti infatti noi sappiamo che ci sono due patti il patto del Vecchio Testamento cioè Vecchio Patto è il patto nuovo il patto della grazia fatto in Cristo Gesù con l'avvenuta di Gesù Cristo quindi i patti tra Dio e l'uomo sono due il patto quello fatto nel Monte Sinai tra Mosè e Dio e poi c'è il patto invece che è stato fatto in Cristo Gesù capite? il nuovo patto cioè il nuovo patto consiste nell'essere salvati mediante la fede nel sacrificio compiuto da Gesù Cristo capite? mentre il patto tra il vecchio patto diceva se tu farai tutte queste cose sarai salvato per via di esse ma se avrai fallito solo in un punto sarai colpevole di tutti i punti capite? quindi erano due patti ben diversi qui dice che le due donne rappresentavano quindi i due patti il patto vecchio era rappresentato da Agar la schiava col figliolo che era nato in schiavitù Ismaele nato secondo la carne infatti le opere sono qualcosa che riguardano la carne no? capite? e dov'è il nostro problema maggiore? è appunto nella carne perché il peccato abita la nostra carne è vero che sono sempre con le opere diciamo col corpo che possiamo fare delle buone opere verso il nostro prossimo però senza dimenticare mai che in questa carne abita il peccato quindi con la carne non arriveremo mai alla perfezione alla perfezione si arriva spiritualmente quindi è importante capire queste differenze tra la legge e la salvezza per grazie i due patti dice ancora scrive ancora Paolo scrive le quali cose hanno un senso allegorico poiché queste donne sono due patti l'uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar quindi Agar rappresenta il monte Sinai la legge infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente quindi Agar che è una figura allegorica che rappresenta alla fine la legge è la Gerusalemme del tempo presente quella che esiste qui sulla terra materiale mentre poi dice la Gerusalemme del tempo presente la quale è schiava con i suoi figlioli infatti i giudei gli ebrei sono schiavi perché sono schiavi della legge di Mosè capite e non saranno salvati per la legge di Mosè questo concetto concetto è importante anche perché ci sono di quelli che vogliono farci credere che i giudei non vanno evangelizzati e invece no perché sono comunque perduti perché anche se cercano in tutti i modi di osservare la legge sono perduti perché si viene salvati e si diventa figlioli solamente per mezzo della fede in Cristo Gesù solo credendo nel sacrificio che ha compiuto Gesù Cristo queste sono cose fondamentali da capire e da accettare da credere e da rispondere quando ti vogliono imporre qualcosa che non è non è conforme alla salvezza per grazie e dice la quale schiava con i suoi figlioli ma la Gerusalemme di sopra è libera cioè la Gerusalemme è celeste voi dovete sapere che ci sono tre cieli la scrittura ci insegna che ci sono tre cieli nel terzo cielo c'è il paradiso di Dio c'è c'è Dio il padre c'è anche Gesù Cristo ma là c'è anche la nuova Gerusalemme che è già stata costruita è una città quadrata che ha una determinata grandezza è tutto scritto la grandezza dei lati di se non mi sbaglio mi sembra che sono di 1600 chilometri adesso facendo i calcoli di quello che era scritto se non mi ricordo male comunque si può sempre andare a vedere andrete poi a vedere ognuno per conto suo quando parla della nuova Gerusalemme ci sono scritte anche le misure le misure della lunghezza per i lati e e questa nuova Gerusalemme cosa farà la nuova Gerusalemme che è una città fatta d'oro di pietre preziose è una città gloriosa costruita da Dio direttamente questa città quando alla fine questa terra e questi cieli scompariranno e Dio avrà creato un nuovo cielo e una nuova terra su quella terra nuova che Dio avrà creato scenderà la nuova Gerusalemme e si depositerà e si fermerà su quella nuova creazione succederà succederà questo la città una nuova creazione e questa città che si poggerà su quella nuova creazione che avrà fatto il Signore e lì gli eredi figlioli di Dio gli eredi della vita eterna abiteranno questo poi lo potete leggere in Apocalisse ecco perché fa la differenza tra la Gerusalemme del tempo presente e la Gerusalemme del cielo di sopra celeste allora ma qui dice ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre è importante questo perché chi è nostra madre perché la discussione che ho visto riguardava Maria è nostra madre Agar è nostra madre o Sara è nostra madre in realtà qui la scrittura dice che noi siamo i figlioli della Gerusalemme celeste quindi Sara come figura allegorica la possiamo citare ma la scrittura ci dice che noi siamo figlioli della Gerusalemme celeste lo dice qui la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre capite lo dice lo dice chiaramente non dice che siamo figlioli di Maria o che siamo figlioli di altro qui dice che siamo figlioli della Gerusalemme celeste perché Agar e Sara sono solamente una rappresentazione allegorica delle due Gerusalemme capite poi dice ancora perché dice così l'appostolo Paolo ha scritto queste parole a Galati ma perché le ha scritte perché lui ha fatto un ragionamento su un passo che era scritto nel profeta Esaia capite era scritto nel profeta Esaia queste parole ed è riferita riferita si riferiscono alla nuova Gerusalemme e dice rallegrati o sterile che non partorivi prorompi in grida tu che non avevi sentito doglie di parto poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di collè che aveva il marito e qui ha spiegato Paolo che cosa voleva intendere quindi la nuova Gerusalemme è quella città che ha partorito a un certo punto in poi con la grazia con l'avvenuta di Gesù Cristo ha partorito mentre prima non aveva figlioli figlioli come ce li ha adesso ma li ha cominciati ad avere quando l'esposizione dell'Evangelo della salvezza mediante l'Evangelo è stata divenuta definita in modo preciso cioè con l'avvenuta del Signore nostro Gesù Cristo perché prima era preannunziata la morte del Cristo ma non era poi così chiara capite anche se anche quelli del Vecchio Testamento anche i servitori di Dio del Vecchio Testamento sono stati tutti salvati per mezzo della fede cioè non è che sono stati salvati per opere non è che erano graditi a Dio per le opere no erano graditi anche loro per mezzo della fede ma quando è che il tutto è diventato perfetto e compiuto tutto si è compiuto è diventato perfetto quando Gesù Cristo è venuto sulla terra è morto per noi è morto per i nostri peccati e quindi si è diciamo l'Evangelo il messaggio dell'Evangelo si è completato e salva coloro che ci credono coloro che lo accettano quindi è importante vedete i liberi chi sono i liberi chi sono gli schiavi la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme del tempo presente che rappresenta la legge di Mosè l'Apostolo Paolo ha voluto fare questo discorso appunto perché i Galati si erano messi a studiare la legge si erano messi ad osservare la legge a leggere tutto quello che riguardava la legge per osservare la legge e Paolo gli ha citato la legge capite gli ha citato quei passaggi che magari gli citavano i loro falsi dottori lì e gliel'ha spiegato e ha spiegato il significato allegorico capite che Paolo aveva una conoscenza profonda di tutte le scritture sia dei messaggi che riguardano il Nuovo Testamento sia quelli del vecchio che Paolo era non solo apostolo ma Paolo era anche dottore dei gentili capite quindi aveva una conoscenza profonda di tutte le dottrine che riguardavano la parola di Dio che aveva imparato che aveva imparato direttamente dal Signore cioè non le aveva imparate dagli uomini come gli apostoli che hanno vissuto vicino a Gesù hanno ricevuto gli insegnamenti direttamente da Gesù anche l'apostolo Paolo anche se non era presente ai tempi in cui Gesù passeggiava nelle città nei territori della Giudea anche se Paolo non c'era oppure era un giovanetto non lo so questo anche se Paolo non l'ha seguito direttamente pure però Gesù gli appariva e l'ha ammaestrato in tutte le cose che riguardano la dottrina diciamo e l'Evangelo questo lo dice lo dice lo dice chiaramente lo dice qui ritorniamo indietro in Galati capitolo 1 versetto 11 no perché non vi sto dicendo cose che sono scritte non vi dico cose che e c'è scritto così è invero fratelli io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo vedete quindi Paolo quello che aveva imparato l'ha imparato da Gesù Cristo non l'ha imparato dagli uomini quindi l'Apostolo Paolo le dottrine che lui ha insegnate a noi che ha scritto affinché noi imparassimo lui le ha imparate da Gesù quindi vedete sono sempre una dottrina sono sempre passi delle scritture che provengono dalle parole di Gesù ecco perché l'Apostolo Paolo per noi è credibile e va seguito ascoltato e bisogna imparare da quello che lui ci ha trasmesso perché a sua volta lui l'ha imparato da Gesù Cristo capite quindi seguire l'Apostolo Paolo vuol dire imitare seguire ascoltare e accettare quello che ha scritto l'Apostolo Paolo vuol dire accettare quello che ci ha insegnato Gesù né più né meno questa è la scrittura questa è la parola credere nella parola è questo quindi vedete poi continuando leggiamo gli ultimi passaggi or capitolo 4 versetto 28 di Galati per concludere or ora voi fratelli siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito così succede anche ora ma che dice la scrittura caccia via la schiava e il suo figliolo perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libera perciò fratelli noi non siamo figlioli della schiava ma della libera vedete i figlioli i figlioli della schiava quelli che osservano la legge di Mosè che vogliono essere salvati per la legge di Mosè sono schiavi quindi non possono ereditare la vita eterna non sono figlioli di Dio e non possono ereditare quindi la vita eterna non possono non possono essere considerati nella stessa maniera come i figlioli della libera capite ma sono sono un'altra cosa i veri figlioli sono quelli che discendono dalla nuova Gerusalemme dalla Gerusalemme celeste rappresentata da Sara i figlioli il figliolo di Sara era figliolo che deriva dalla promessa fatta da Dio quindi sono figlioli noi siamo figlioli della promessa alla stessa maniera che Isacco capite praticamente questo è il concetto e di conseguenza qui Maria allora Maria innanzitutto non c'entra niente qua quindi togliamo già eliminiamo subito un problema Maria non c'entra niente figlioli di Maria no non c'entra niente qua abbiamo soltanto qui si parla di considerazioni che si devono fare su Agar sulla figura sull'allegoria tra Agar e Sara questo era diciamo il concetto ora se volete fare delle domande o aggiungere qualche cosa magari qualcosa che non ho spiegato bene se riusciamo ad aggiustare il tiro è sempre meglio capite quindi cioè l'epistola ai Galati è importante è importante per tante cose adesso ho voluto prendere il contesto generale dell'epistola ai Galati perché ci aiuta a capire il pezzettino che ci interessava e poi la figura allegorica di Agar e Sara cioè le figure allegoriche le parabole le possiamo fare le possiamo anche cercare di capire possiamo farle anche noi se le facciamo nella maniera corretta perché ci sono nella scrittura però attenzione noi dobbiamo fare attenzione al fatto che per dare una spiegazione ai passi delle scritture dobbiamo sempre partire da un significato letterale cioè dobbiamo prima capire il contesto e il significato letterale che sta scritto lì in italiano scritto lì senza dare interpretazioni all'inizio dobbiamo capire senza dare interpretazioni e spiegazioni successivamente avendo capito bene che cosa è scritto in italiano allora dobbiamo capire se ha bisogno di una interpretazione perché è una parabola o un'allegoria oppure se va presa così se va presa così come scritta capite quindi il principio che si deve seguire sempre insieme e sono due i principi nello studio della parola si devono seguire sempre due tipi di principi importanti che sono la letteralità della parola e la somma della parola è verità perché la letteralità a volte da sola non basta perché perché se noi leggiamo nel libro della legge che diciamo è vietato mangiare carne di maiale leggiamo dalla legge che cosa è quella è parola di Dio l'ha detta è Dio sì e allora uno può dirti che poi è quello che succede può venire a dirti vedi che è un comandamento di Dio perché mangi carne di maiale capite ah tu credi nella letteralità della parola sì e allora perché mangi carne di maiale se è comandato di non mangiarla e se uno non conosce la somma della parola poi cade in difficoltà si trova in grave difficoltà invece con la somma della parola vedete si risolve anche questo problema della letteralità delle varie criticità che ci sono nella letteralità cioè è vero che il comandato è scritto di non mangiare carne di maiale però è anche vero che Gesù che Gesù ha detto che non è quello che entra nel corpo che ci contamina e quindi dicendo così faceva tutti i cibi puri quindi non ci sono più cibi impuri oggi capite ci sono cibi sacrificati agli idoli che non dobbiamo mangiare ma i cibi puri secondo la legge non c'è più la distinzione tra puri e impuri capite quindi il carne di maiale la possiamo mangiare vedete seguendo il principio della somma della parola e verità cioè la totalità della parola ti aiuta ad arrivare alla verità non ti basta solamente un pezzettino capite non è sufficiente grazie grazie grazie